Volevo informare il consigliere politica che l'azienda Colari è commissariata, per cui noi non facciamo l'accordo con Cerroni. Sono gli impianti ex di Cerroni, ma è commissariata, per cui si dovrebbe un attimo informare meglio. È ovvio che avendoci lasciato una città allo sbando da un punto di vista impiantistico, questi impianti sono importanti e essenziali per poter andare avanti in questa fase di transizione e noi stiamo prevedendo la realizzazione di nuovi impianti proprio per superare i disastri che la destra e la sinistra hanno fatto fino ad oggi, tipo impianti vicino ai silinido come al salario. Questa è la verità, non quello che viene detto dalle opposizioni. Grazie.